Noi abbiamo i giocatori con poche maglie, tu sei uno di fraspetto, e poi hai fatto delle cose che ti sono piaciute, non vuoi accomodarti, non vuoi accomodarti, perché per me sono un passaggio in casa, chi sta solo? io Gigi vabbè faccio il Gigi io per un attimo io direi di cominciare dall'ottavo premio l'ottavo premio è un biglietto di primo anello blu per domenica Inter Roma quindi il fortunato vincitore adesso ti facciamo anche a te nello che i bambini sono giugentini e sono dagli stradati sulla brutta strada noi siamo abituati ai bambini non gli chiudiamo e gli occhi ci fidiamo non li perdiamo